buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 27 febbraio 2023 iniziamo insieme una nuova settimana dando un'occhiata ai giornali purtroppo le notizie sono veramente notizie drammatiche a partire da quanto riportano i giornali nazionali una nuova strage il resto del carlino intitola la strage degli innocenti 50 migranti 59 migranti morti ma probabilmente sono anche molto di più tra cui 14 bimbi mentre provenivano dalla turchia e sono approdati nelle coste della calabria la tempesta a soli 100 metri dalla riva ha fatto naufragare forse perché si è imbattuta in uno scoglio una barca una barca di 20 metri su cui c'erano stipati tantissime tantissime persone oltre 20 sono poi dispersi la nuova rotta che proviene dall'egeo che viene evidenziata oggi dai giornali con notizie di carattere nazionale quell'altra notizia invece che impera è una notizia di politica l'ashlein ha vinto le primarie del partito democratico e ora si appresta a dirigere come segretaria nazionale il suo partito ma noi diamo un'occhiata come sempre ai titoli di carattere locale a partire dall'almanaco del giorno eccola qua la grafica e vediamo chi si festeggia oggi oggi si festeggia san gabriele della dolorata si tratta di francesco possenti nato ad assisi nel 1838 e bene francesco scelse la regola dei padri passionisti che era stata fondata da san paolo della croce assumendo appunto il nome di gabriele della dolorata perché mostrò una particolare venerazione per i dolori di maria santissima nutri una particolare devozione appunto per la madre dei dolori e condusse una vita umile silenziosa morì a soli 24 anni dopo soli 5 di vita religiosa vissuta con grande intensità vediamo che tempo fa la notizia nuova è che è arrivata la pioggia è arrivata da ieri e su tutte le marche abbiamo un tempo particolarmente nuvoloso ed è un ristoro soprattutto per l'agricoltura e vediamo come l'avvio di settimana sarà ancora instabile in tutta la regione con piogge sparse e nevicate a quote collinari ma in lieve rialzo la temperatura che si aggirerà tra i 6 e gli 8 gradi i 6 la minima e gli 8 la massima i venti ispireranno sulle coste da una direzione di est e nord est mentre nell'interno da nord est le temperature sono ancora in calo se nelle coste le temperature saranno tra i 6 gli 8 gradi nell'entroterra saranno invece ancora minori e l'intervallo tra la massima e la minima sarà ancora più ridotto infatti si calcola la minima 2 la massima 3 insomma quindi presso a poco c'è poca variabilità c'è poca variazione e allora allora diamo un'occhiata subito ai giornali e guardiamo la prima pagina del resto delle carlino che un po' riassume le pagine interne di tutte le quattro province e di tutte le cinque province marchigiane vediamo subito i titoli di pesaro ecco l'ex segretaria che spopola su only fans ma non sono cambiata è una ragazza di pesaro che ha scelto una vita un po' trasgressiva ma ora si trova molto bene perché guadagnano un pochi soldi e poi abbiamo invece un allarme di sicurezza che viene lanciato dal parroco di villa fastigi in merito a diversi furti che si sono verificati nel quartiere e poi l'evento l'evento la tappa del giro d'italia fossombrone che ieri è stata illustrata nei suoi particolari sollevando un po' l'entusiasmo non solo degli appassionati di ciclismo ma anche di tutti coloro che di questo evento aspettano aspettano una grande promozione per la loro località e poi vediamo anche per quanto riguarda la politica la notizia che la bon prezzi è stata privilegiata nelle votazioni delle primarie del partito democratico come segretaria regionale del partito democratico come di lash lane per quanto riguarda all'evento il pd nazionale invece la bon prezzi per quanto riguarda la direzione del pd nelle marche la corsa per la direzione del pd regionale fin da subito netto vantaggio sulla rivale bello maria e qui vediamo la bon prezzi mentre vota appunto la scheda che poi la così la privilegiata e poi ellie bene ovunque ellie bene ovunque a pesaro bonaccini bonaccini però al 51 per cento slain ce la fa vittoria netta in tutte le grandi città distrutti dalla polizia in ancona fucili e pistole posseduti illegalmente oltre 200 sono state le armi distrutte erano frutto di sequestri erano state abbandonate oppure erano di proprietà di persone ritenute pericolose e poi per quanto riguarda ascoli e fermo rizza tra stranieri armati di bastoni e coltelli tre vanno a processo a monte san pietrangioli la vis festeggia i donatori la metà a meno di 35 anni ed è veramente bello come molti giovani e accettano il volontariato di donare il proprio sangue a chi ne ha bisogno si fa una grande promozione nelle scuole da parte dell'avis anche perché quando uno diventa donatore da giovane poi di solito lo rimane per tutta la vita e quindi è una grande risorsa per tutta la sanità territoriale l'emergenza infortuni al lavoro nella scolano le donne sono le più colpite è un dramma quello degli infortuni del lavoro che ogni anno si attestano sempre su cifre molto preoccupanti e per quanto riguarda invece un fatto di cronaca uccide la moglie tenta il suicidio la donna era malata gravemente un fatto un fatto veramente inquietante che viene richiamato all'interno delle pagine a macerata uno schianto della notte muore a 46 anni e poi il ricercatore gioiele marozzi così ho censito 17 mila scritti leopardiani una ricerca veramente impegnativa ma anche molto molto ponderosa che ha richiesto molto tempo ma che sarà molto molto proficua per tutti coloro che studieranno leopardi vediamo anche quello che si dice all'interno del resto del carlino ecco qua l'articolo che riguarda gli infortuni sul lavoro per quanto riguarda ascoli più colpite le donne ascoli il dato è riferito a due anni di pandemia legati al covid negli ultimi mesi del 2022 c'è stato un aumento di denunce all'inail e poi a capodargo uccide l'anziana moglie il figlio papà vagava sotto shock fermo oggi l'incarico per l'autopsia del corpo dell'85enne trovata morta in camera da letto il marito ricoverato in psichiatria indagato per omicidio dopo la violenza ha cercato di uccidersi un dramma veramente che dovrà essere indagato in tutti i particolari per capire che cosa abbia indotto l'uomo a uccidere la moglie ed ora parliamo di politica ecco l'articolo che enuncia i risultati delle primarie promosse dal partito democratico nella giornata di ieri innanzitutto la fluenza al voto superiore ad ogni previsione quindi vuol dire che il popolo del PD ma non solo si è mosso per dare una svolta a questo partito vediamo che le due vincitrici sono la Bonprezzi per quanto riguarda come abbiamo detto la regione Marche e la Schlein per quanto riguarda a livello nazionale vittoria senza sbaffi intitola il resto del Carlino fin dai primi spogli la tendenza è stata definita ai seggi ci sono presentati quasi 8 mila votanti nella vittoria della ricercatrice sendigallese Chantal Bonprezzi per la segreteria regionale e di Ellish Lane per quella nazionale un po' in tutta la provincia di Ancona il distacco sul vice sindaco di Cerreto Desi per la segreteria regionale e su Stefano Bonaccini per quella regionale è stata subito evidente quindi non ci sono state storie per quanto riguarda i rivali i rivali dopo ci sono qui alcuni dati località per località ma belli risparmi e vi invito però a leggere l'articolo che riguarda Bonaccini a Pesaro al fotofinish alle urne in 6.500 Chantal Bonprezzi ha chiuso al 51,3% risultato bulgaro per lei a Villa Fastigi ebbene a Villa Fastigi non ci sono state assolutamente storie a Macerata invece Stefano non sfonda la vittoria è rosa ad Ascoli Fermo qui si preferiscono i voti per la regione ed ora passiamo la pagina pesarese dove vediamo questa stellina che sta avendo un successo dove la vediamo nelle Canarie Arianna si chiama Arianna Orazzi l'ex segretaria spopola su OnlyFans guadagno tanto detto fortunata lei ma non sono cambiata si tratta di una pesarese di 21 anni che racconta la sua nuova vita si è trasferita alle Canarie ma torna spesso nella sua villa San Martino mi chiedono soprattutto video amatoriali di nudo i miei genitori non sono contenti ma il tempo dice crede sistemerà le cose e qua abbiamo un'intervista a questa ragazza Michael e quel viaggio pianificato a Milano un ritorno sul fatto crudo di Cronaca che si è sfociato in un delitto nei giorni scorsi a Pesaro si tratta di Michael Alessandrini 30 anni e per Paolo Panzieri 27 qui vediamo appunto la vittima e l'omicida che sono i due protagonisti di questo drammatico fatto di Cronaca che ancora fa parlare di sé e qui si vede come l'assassino abbia chiesto alla nonna che si chiamava Leda e ha 85 anni di dargli dei soldi di dargli dei soldi perché doveva partire per Milano dove vagheggiava di avere un posto da necroforo e quindi la nonna lo ha aiutato però in realtà quei soldi poi li ha portati con sé in Romania dopo aver ucciso l'amico a Pesaro il vizio totale di mente dice il legale dei Panzieri è un qualcosa che va dimostrato con elementi oggettivi e non con le opinioni perché poi il problema della mente viene evidenziato a difesa dell'assassino ed ora venice parliamo dei furti che si stanno così evidenziando a Villa Fastigi c'è una ripetizione di furti che ha messo in preoccupazione molti abitanti ed è stato proprio il parroco in chiesa a dire state attenti perché nel nostro quartiere girano dei ladri ladri, Villa Fastigi a paura dateci telecamere e vigili il circo del PD tanto attivo per altre iniziative ma silente su questo problema sognano ancora che qui si viva in un'isola felice ebbene a lanciare la protesta oltre al prete abbiamo Luca Pandolfi che è consigliere del quartiere Villa Fastigi Villa Cecolini il quale ha scritto al Carlino chiedendo appunto una grande attenzione per quello che sta accadendo nel suo quartiere c'è un furto dopo l'altro i ladri dopo aver già visitato alcune case hanno continuato a muoversi tranquillamente e a dirigersi verso altri obiettivi secondo le testimonianze dei residenti nonostante la presenza in loco delle forze dell'ordine hanno continuato a svaliggiare gli appartamenti ebbene sono molto furbi molto abili questi malviventi e riescono a penetrare nelle case in tutti i modi anche se poi all'interno ci sono i residenti ebbene Fossombrone è in orbita allora parliamo di sport Fossombrone è in orbita a maggio passa il Giro d'Italia presentata l'ottava tappa in programma sabato 13 forte il rilancio mediatico fino ad allora il ponte della Concordia pavesato di Rosa ebbene si aspetta con grande impazienza questa tappa la tappa del Giro d'Italia è sempre un livello promozionale per ogni località di eccezionale importanza perché poi le telecamere che riprenderanno le fasi finali della corsa promuoveranno le immagini del paesaggio in tutto il mondo possiamo dire perché il Giro d'Italia è seguito in molti molti paesi e qui vediamo due momenti della presentazione e nelle queste fotografie in alto il sindaco Massimo Berloni con il presidente Francesco Acquaroli sotto Sanchini e Cassani con Giustin Matera appunto che hanno parlato di questo avvenimento per quanto riguarda Fano invece si parla ancora dell'allarme Arzilla Arzilla quattro mosse per metterlo in sicurezza ma chi interviene? ebbene l'articolo prende le mosse da quanto si è parlato in Consiglio regionale nell'ultima seduta c'è stata una interpellanza della consigliera del Partito Democratico Micaela Vidri che ha chiesto un intervento più deciso in merito alla sicurezza la cura la manutenzione dell'Arzilla sollevando l'attenzione dell'assessore Stefano Aguzzi ebbene in questo caso si è cercato anche di fare chiarezza a chi spetta realizzare queste opere di manutenzione abbiamo detto tante volte c'è confusione deve intervenire il Comune deve intervenire il Consorzio di Bonifica i frontalieri insomma c'è la Regione il Genio Civile insomma c'è ancora molta confusione l'assessore Aguzzi ha tentato di mettere chiarezza dicendo che l'area urbana spetta il Comune le altre spettano un po' ai frontisti e al Consorzio di Bonifica però ancora la situazione è in alto mare chi interviene il punto interrogativo quindi viene giustificato oggi nel titolo di questo articolo per quanto riguarda Ancona invece vediamo come la polizia ha distrutto oltre 200 armi sequestrate si tratta di fucili e pistole posseduti illegalmente lasciate in posti non sicuri oppure nelle mani di persone che sono state ritenute pericolose abbiamo parlato del Giro d'Italia e quindi diamo un'occhiata anche alle pagine dello sport per quanto riguarda le gare che si sono disputate nella giornata di ieri e vediamo che la Vis si accontenta di un pareggio con l'Alessandria quindi fuori casa un risultato utile la Vis vede le streghe poi per fortuna si salva e al 94esimo il palo le nega il colpaccio ovvero la vittoria fuori casa dopo la botta è risposta nella prima mezz'ora l'Alessandria resta in 10 ma passa in vantaggio con Baldi il piattone di Sanogo evita un K.O. pesantissimo infine Gega va ad un passo della vittoria appunto con questo palo il punto potevano essere tre ha dichiarato Brevi bene il pari per come si era messa ma se guardo i 90 minuti ci manca qualcosa insomma la Vis poteva anche fare il colpaccio come abbiamo detto vediamo anche quello che ha il risultato che ha realizzato il Fano anche il Fano a Termoli se ne va con 0-0 Alma e Termoli partita di forza e resistenza alle grucci espulso ma il Granata reggono reggono complicarsi la vita scrive Valentino Murciano è un'arte riuscire comunque a limitare i danni una conseguenza non sempre così scontata ma alla fine il Fano torna da Termoli con un punto che profuma quanto una mezza vittoria insomma se l'è cavata abbastanza bene vediamo l'Atletico Gallo per quanto riguarda il campionato di eccellenza i ragazzi di Mister Mariotti schiantano l'Atletico Ascoli e volano nelle zone nobili Atletico Gallo 3 Atletico Ascoli 0 quindi una bella partita è un bel risultato apre Barattini raddoppia Peroni e chiude i giochi Costantini che viene considerato il migliore appunto di tutta la partita vediamo anche quello che si dice no passiamo invece passiamo invece al Corriere Adriatico per quanto riguarda lo sport e vediamo come il titolo sulla visse dice un altro pareggio utile e quindi e quindi è un veramente un pareggio che viene considerato produttivo mentre il Fano solido resta in 10 ma strappa un buon punto 0-0 con il Derby e invece la Vigor Senigallia la Vigor Senigallia perde purtroppo con il Porto d'Ascoli quindi per fortuna per il Porto d'Ascoli il Derby appunto se lo aggiudica quest'ultimo botta e risposta tra Napolano e Mancini poi nella ripresa arriva il 2-1 firmato da Buonavoglia giriamo ancora la pagina e vediamo che a Fossombrone si sogna e almeno 3 dalla vetta contro il Castelfidardo ci pensa Germinale al 75esimo a decidere la partita il risultato non lascia alcuna discussione Fossombrone 1 Castelfidardo 0 mentre il Gallo invece canta tre volte l'Atletico Ascoli crolla la capolista si arrenda ai gol di Varattini Peroni e Costantini come abbiamo detto le inseguitrici si avvicinano giriamo ancora le pagine vediamo la VL ora si gode Visconti il giocatore della Carpegna Prosciutto ha debutato con la Nazionale un momento indimenticabile invece per la pallavolo vediamo le due partite importanti del nostro territorio la Vigilar si è ritrovata 3 con 3 set a favore della Vigilar uno a favore del Montecchio Maggiore il quale si è giudicato il primo set ma poi però tutto è stato della Vigilar invece la Megabox doveva chiudere prima la partita ma Frici la vittoria al tie-break a Firenze è importante per il morale l'equilibrio e la concentrazione sono gli aspetti ha dichiarato su cui dobbiamo continuare a lavorare ci ho detto invece torniamo sul Corriere Adriatico per dare un'occhiata alla pagina di Fano dopo la pala se ne vanno Predella e Annunciazione che cosa significa questo titolo significa che quest'anno è il 55 centesimo anniversario della nascita del Perugino un grande pittore maestro di Raffaello un pittore che viene celebrato in tutta Italia ebbene Fano cosa fa? Fano ha due grandi capolavori del Perugino la pala del Durante una pala che ritrae la Madonna con il Bambino e Santi nella Chiesa di Santa Maria Nuova è una pala dell'Annunciazione bellissima anche questa allora la pala del Durante è da molto molto tempo al lupificio di Pietre Dure a Firenze per un intervento di recupero doveva essere salvata soltanto dai Tarli poi invece è stata trattenuta per procedere ad una più approfondita opera di restauro dovrebbe tornare a Fano nel mese di settembre quindi tutta l'estate non ci sarà ed ora cosa succede? Succede che parte anche la Predella che è un po' quella che attrae di più i turisti nella Chiesa di Santa Maria Nuova perché si crede che lì ci sia anche la mano di Raffaello e parte anche la visitazione quindi Predella e annunciazione vanno alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia e la Chiesa di Santa Maria Nuova c'è solo le copie e quindi noi facciamo promozione nei confronti dei turisti perché vengono a visitare Fano e Fano vedono solo le copie i nostri capolavori sono in altre località ebbene l'articolo dice a padre Giancarlo Mandolini priore del convento di Santa Maria Nuova veniva quasi da piangere vedere la Chiesa letteralmente spogliata dei capolavori del Perugino proprio nell'anno in cui si celebra il cinquecentesimo anniversario del grande pittore Umbro maestro di Raffaello ebbene gli è venuto un groppo in gola ebbene non solo questo groppo dovrebbe venire a padre Mandolini ma anche a tanti altri fanesi che amano l'arte il Rotary lancia le giornate della prevenzione controlla i tuoi nei l'iniziativa contro i tumori della pelle dopo due anni che questa manifestazione di grande utilità in quanto previene dei tumori nella pelle non si è potuta realizzare a causa del Covid ora il club di service lo ripropone per il prossimo mese di maggio ebbene con una grande partecipazione del settore di dermatologia appunto dell'azienda sanitaria territoriale 8 medici a disposizione per l'esame della pelle e vedere se ci sono appunto dei nei pericolosi siamo in conclusione maltempo colpo di grazia alle strade di bellocchi con questo titolo di spalla quattro consiglieri della lega buche grandi come crateri nella viabilità di bellocchi ed era l'ultima notizia massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il TG di Fano TV occhio alla notizia grazie per l'ascolto e a risentirci